Gianettore Gassani, avvocato matrimonialista, dicevamo, presidente di una delle associazioni degli avvocati matrimonialisti, la sua. Gianettore Gassani, presidente dell'associazione dei matrimonialisti italiani, che ha fatto un libro, proprio La guerra dei rossi, racconti di famiglie e di violenze prima e durante il Covid. A questo punto voglio segnalarvi La guerra dei rossi, racconti di famiglie e di violenze prima e durante il Covid-19 di Gianettore Gassani. Parleremo di famiglia, che è anche una parola che campeggia nel sottotitolo di questo libro di Gianettore Gassani, dal titolo La guerra dei rossi, racconti di famiglie e di violenze prima e durante il Covid-19. Su quella pandemia familiare che ha colpito molte famiglie, questo aumento vertiginoso delle violenze intrafamiliari. Il nostro amico avvocato Gianettore Gassani, La guerra dei rossi, racconti di famiglie e di violenze prima e durante il Covid-19. Ecco qua il suo libro. L'emergenza Covid-19 ha cambiato la vita di tutti, anche la vita familiare, in alcuni casi anche la vita matrimoniale o comunque di coppia. L'avvocato Gianettore Gassani, matrimonialista, presidente dell'Associazione Matrimonialisti Italiani, ha scritto un libro sulla sua esperienza degli ultimi mesi, che si intitola La guerra dei rossi. Grazie a tutti.